bella a tutti ragazzi ora siamo in questo nuovo video vi farò vedere questo nuovo video vi farò vedere la mia la mia squadra foot vi dico che è una serie a ora andiamo col video in porta abbiamo donna ruma già luigi donna ruma così ha acquistato per 22.000 crediti ha giocato nove partite e non ha fatto gol nei cartellini andiamo col difensore centrale destro barzagli andrea barzagli pagato 8.400 crediti ha giocato tre partite e ha fatto zero goal ha fatto zero assist zero cartellini gialli e zero cartellini russi poi andiamo col terzino destro dani alves c'è terzino completo ha tutte le caratteristiche per essere un per essere un terzino destro ecco acquistato per 14.000 crediti ha giocato 10 partite ha fatto un gol di testa anzi anche tre assist due gialli gialli e 0 0 rossi difensore centrale sinistro leonardo buonucci è acquistato per 11.250 crediti ha fatto 10 partite 0 gol 0 assist due cartellini gialli e 0 cartellini rossi ora iniziamo qui questi questi sei qua sono i pezzi forti iniziamo dal difensore beh difensore c'è terzino sinistro sinistro alessandro lobo silva pagato 10.750 crediti ha fatto 10 partite 10.750 crediti ha fatto 10 partite 0 gol 0 assist un cartellino giallo e 0 cartellini rossi ora iniziamo qui questi questi sei qua sono i pezzi forti iniziamo dal difensore beh difensore centro campista banego 86 e if se mi sembra if sai che c'è tif si non so niente così acquistato per 34.000 crediti 10 partite 3 gol 5 assist un cartellino giallo 0 cartellini rossi poi jack buonaventura acquistato per 54.500 crediti ha fatto 10 partite un gol 3 assist 0 cartellini gialli e 0 cartellini rossi poi qui c'è mira lempjanic acquistato per 56.000 crediti fatto 10 partite un gol un assist 3 cartellini gialli e 0 cartellini rossi iniziamo dall'attacco iniziamo da quello iniziamo da quello iniziamo da quello un po più meno pregiato che che marco piaccia 81 era di e l'ho trasformato in atd acquistato per 12.250 crediti ha fatto 4 ha giocato 4 partite 2 gol fatti 2 assist 0 cartellini gialli 0 cartellini rossi poi iniziamo con l'attaccante poi iniziamo con l'attaccante poi iniziamo con l'attaccante con l'attt paolo bruno di bala è fortissimo l'ho acquistato per 70.000 ha giocato 10 partite ha fatto 14 gol ha fatto un assist 0 cartellini gialli 0 cartellini rossi poi iniziamo col prezzo forte e gonzalo girardo guain acquistato per 22.000 ha fatto un affarone mesi 2000 allora ha giocato 4 partite ha fatto un gol ha fatto 3 assist un cartellino giallo e 0 cartellini rossi e poi come allenatore ho massimo allegri passimigliano vabbè boom è un 184 poi in difesa ho è in difesa si no in pacchino ho benatia allison zapata sturaro bersia zappacosta e molinaro molinaro poi di qua c'ho maccarone olet bizzarri arter e questo qua che non so che sia però chi sta questa squadra qua l'ho fatta perchè ho venduto aspettate ciro immobile per 354.000 è stato un affarone e niente ecco torniamo qua eh boh la mia squadra è fatta nel prossimo vi ho fatta vedere nel prossimo episodio nel prossimo episodio porterò una due partite della stagione giocatore singolo che sono in divisione 7 sono arrivato oggi in divisione 7 ehm e niente ci vediamo in un prossimo video ehm commentate iscrivetevi ehm dal pro è tutto ci vediamo al prossimo video bello